Silvia, mi è venuta un'idea, mi è venuta un'idea, sentite va che ti porto a fare l'aperitivo onnumana, poi dopo andiamo al samba giamboria a farci un balletto e poi andiamo a dormire alla fortezza del cagliostro, quella a saleo, ti piace come idea? ti piace? che mi ha venuto questa ispirazione? ora ci penso, ora ci dormi un pochetto allora tu preparate, che ora ritorno subito, ora aspetta ma che sti fa? sta a prendere l'ispirazione